Grazie, dato che il tema è radici, vi vorrei parlare di qualcosa di un po' particolare, perché Montalcino è famoso essenzialmente per quello che si pensa sia un legame molto forte con le sue radici, ed è vero, però sono radici che forse non vengono davvero comprese per quello che sono. Montalcino è qualcosa di particolare, probabilmente la comunità agricola più ricca del mondo, cioè ovvero la comunità che riesce a trarre dal suo territorio e dalla sua agricoltura, il maggior reddito pro capite, è una comunità che ha un benessere molto diffuso, non ha grandi ricchi, ha molti benestanti, ma dove nasce tutto questo? Perché è tutto questo? Nasce da un rapporto curioso con la sua storia, che è molto toscano. La Toscana in fondo cos'è? È un territorio che non ha fiumi importanti, non ha porti importanti, non ha pianure ricche, è un territorio che naturalmente è molto povero, però è sempre stato molto ricco. Perché? Un po' per l'ingegno dei suoi abitanti, un po' per un genio particolare, diciamo un carattere particolare della sua cultura, che è quello di saper creare tradizioni. La tradizione è un po' cos'è? La tradizione è una novità, è un qualcosa di nuovo che ha avuto successo, e si è ripetuto così tanto tempo da divenire usuale, e a quel punto diventa tradizione. Il problema delle tradizioni è che spesso si sedimentano, allora si crea una cosa bella, funziona, è un bellissimo risultato, e poi cominciamo a prenderla non per ciò che è, ma per la forma che assume. Confondiamo la forma con la sostanza. E allora pensiamo che la tradizione sia, mettiamo, arare il campo con i bovi e seminarlo con le mani. Beh, non è quello. La tradizione è produrre grano, o produrre uva. Non di usare il cavallo, il carro, il bove. La tecnologia cambia, la tecnica cambia, usiamo il trattore, ma quello che facciamo è la sostanza. Questo è Montalcino. Montalcino è, diciamo, il simbolo di come un modo di capire e intender la tradizione ha portato il benessere. E lo ha riportato varie volte, perché questa è una comunità particolare. Una comunità che è stata, è nata lungo una strada, è nata mille anni fa, lungo la strada più importante della cristianità. La strada che andava a Roma. La strada che è stata per un millennio la strada più transitata del mondo occidentale. Lungo quella strada è diventato un porto di mare, perché senza mare, perché di qui passava di tutto. E passando di tutto si è dovuta adattare a ciò che passava. E ha creato il benessere con questo. Benessere basato su molte cose diverse. In passato era talmente benestante che si è comprata l'esenzione dalle tasse, dalla Repubblica di Siena. E per molti anni è stato un grande portofranco. Di conseguenza ha sviluppato attività manifatturiere, attività di trasformazione, di commercio. Poi le cose sono cambiate. A un certo punto questa via si è essiccata, perché la Repubblica italiana ha inventato la sua strada del sole. Da un giorno all'altro i milioni di persone, erano 4-5 milioni all'anno, che passavano da qua e non passavano più. E Montalcino si è reinventata, come aveva fatto in passato dopo i suoi cinque assedi, dopo essere stata distrutta, ricostruita, dopo i vari problemi che ha avuto. Si è reinventata come? Ha preso una delle sue tradizioni storiche, quel Brunello che ha 500 anni di storia, documentata, e che è stato a momenti vino di re, vino importante. Pensate, era il vino di corte di Guglielmo III d'Orange, che quando era un giovane principe spesso era andato a Roma e si era innamorato del Brunello, diventato re d'Inghilterra, ne fece il suo vino di corte. È stato il vino di molti papi, è stato un vino famosissimo. Poi, a periodi di dimenticato, a periodi di ritornato, quando è scoppiata la miseria, un gruppo di Montalcinesi ha pensato di riprendere questa tradizione e farne un punto di forza. Ed è stato un enorme successo. È stato un enorme successo perché hanno ripensato alle radici di questa tradizione e hanno dimenticato il modo come si faceva. Cioè hanno portato avanti la sostanza e buttato via la forma. La forma era un vino che veniva venduto a chi passava, ai ricchi, agli importanti, ai principi, ai re, alle persone che potevano spendere, che passavano in quantità da Montalcino e veniva fatto per loro. Bene, è stato preso questo vino per i re, per i principi, per i papi, per le persone importanti, e lo si è portato in giro per il mondo. Per poterlo vendere, per poter essere ciò che era, abbiamo deciso di andare noi e abbiamo inventato un modo di commerciarlo. Mio nonno ebbe un'idea geniale, disse, tutti pagavano gli agenti di vino il 3%, noi avevamo il vino più caro d'Italia, perché non pagargli i 15%? E così a un certo punto, da un giorno all'altro, trovò come i suoi agenti, i migliori agenti d'Italia. Suo cugino, Tancredi Piondi Santi, era un grandissimo enologo, sicuramente il più grande era la Toscana nei suoi tempi, uno dei più grandi d'Italia, andando in giro per eventi, per clienti, per tutto, portava i suoi vini, li presentava e li vendeva andando porta a porta, quasi, se vogliamo. Ecco, ambedue le cose, loro le hanno espanse, le hanno condivise con la comunità dei loro colleghi e è diventato usuale. E poi il modo di essere, il modo di fare, l'unicità, quella l'abbiamo conservata. Avevamo l'unico grande Sangiovese in purezza d'Italia in un mondo del vino che correggeva tutto. Se un vino era un po' devole in quell'anno, ci aggiungeva qualcosa che dava forza. Se mancava colore, aggiungeva qualcosa per il colore. Noi no. Noi facevamo una pietra in purezza. Noi facevamo un qualcosa di unico, o era perfetto o non era, che era il brunello. Questa nostra unicità l'abbiamo mantenuta. Vi devo dire istintivamente, vi devo dire studiatamente, non lo so. So che questo spirito di capire il senso di una tradizione e portarla avanti, ignorando le varie forme che l'avevano irrigidita nel tempo, è stato un enorme successo. Questa è la ricetta di Montalcino. Queste sono le radici, il modo di comprenderle radici di una comunità che si è forgiata nei secoli su una strada, una comunità che si è incrociata con la strada. Di conseguenza mettiamo, è una sede vescovile, ha 18 chiese dentro le mura, ma ha anche una chiesa protestante, ce l'ha da secoli. Aveva una fiorente comunità ebraica con tanto di persone famosissime. Pensate, i Levi di Montalcino sono i Levi Montalcini, la famiglia della Rita Levi Montalcini, premio Nobel. Ha una moschea, ha un blend culturale incredibile attualmente. Perché? Perché l'ha sempre avuto. Una comunità che ha saputo ibridarsi mantenendo ciò che è. Questo è un po' il segreto della Toscana. saper fare il nuovo, saperlo fare continuativamente, saperlo reinventare e ricreare. Se voi guardate la Toscana di oggi, questa zona, questa Val d'Orcia, voi vedete una zona bellissima, il patrimonio dell'UNESCO. Un'icona. Bene, questa icona è una tradizione nuova. Se voi foste venuti in questa icona un secolo e mezzo fa, voi avreste visto calanchi, terreni incoltivabili, addirittura avevamo, abbiamo sott'ora, un deserto, l'unico deserto d'Italia, il deserto d'Ancherona, e zone assolutamente non coltivabili. Nell'Ottocento, i nostri avi, usando il meglio della tecnologia che c'era, cioè gli esplosivi di allora, perché ancora non c'erano ovviamente nei trattori del Ruspe, hanno trasformato questi calanchi, queste zone incoltivabili, nelle dolci colline della Val d'Orcia. Ne trovate una traccia nel museo del paesaggio di San Quirio, una cosa bellissima. Andate a vedere alcune delle icone attuali. mettiamo la bellissima chiesina di Vitaleta, un'icona fotografata da tutti. Bene, eh sì, è vero, è una chiesa del Cinquecento, ma è stata totalmente rifatta fino a Ottocento nel suo aspetto attuale. Dunque è una, a meno di un secolo. Ed è un'icona della Toscana, della Toscanità. Questi lunghi viali di cipressi che voi vedete, che identificate con la Toscana, sono solo fiorentini. Fino a poche decine di anni fa li trovavate solo a Firenze. A Siena non c'erano. Tutte le altre parti della Toscana non c'erano. Bene, sono un'icona, sono la storia, sono la Toscana di sempre, però ci sono solo ora. Vedete, noi toscani abbiamo un'arte di saper capire cos'è, cosa sono le radici, saperle usare, saperle vivere e saperle rinnovare. La Toscana è il rinnovamento delle radici, le radici eterne. Noi abbiamo una terra povera e ci siamo dovuti ingegnare. Questo è un po' il lascito, l'eredità della Toscana all'umanità, per dirla un po' in termini rubanti, a dire il vero, un po' eccessivi. Per me è anche vero. È un piccolo angolo del mondo che contiene una parte, ha prodotto, una parte importante dell'arte, della cultura, della letteratura e di tante altre cose. Alcune che manco mai vi immaginereste. Tipo, mettiamo, voi andate in banca. Penso che tutti voi più o meno l'usate. Beh, la banca come la concepiamo ora è nata a Siena. I nostri antenati mille anni fa avevano il problema di avere un prodotto molto bello che erano le loro lane. E dove le vendevano? Non localmente, non c'era mercato. Le portavano fino alle fiandre. Il problema era come portare le lane era banale, ma come riportare indietro i soldi? E quello era un problema. E allora si inventarono la cambiale, portavano la carta invece di portare i soldi e così non venivano derubati. E cominciare lo suo servizio funzionava così bene lo usarono per tutti e inventarono una nuova tradizione, un nuovo modo di essere. Questo è lo spirito tuscano. La cambiale il mutuo il prestito incredibilmente voi associate Siena all'arte beh Siena è l'inventrice della banca. Chi lo direbbe mai? Vedete è una terra inaspettata dove tanto è nato tanto si crea e tanto si crea in continuazione. È un modo di essere un modo di essere estremamente inclusivo estremamente così forte in se stesso da non avere paura dell'altro una cultura in essere e in divenire che per questo non diventa mai vecchia. Questo è un po' il messaggio che è un luogo come Montalcino che è vissuto per la sua intera storia di commercio commercio lungo una strada è vissuto essendo che era un incrocio di transumanza perché qui si incrocia la strada che va a Roma con una delle due strade che vanno da mare a mare in Toscana da qui si va a Grosseto cioè si va al Martirreno dall'altro lato si va a Perugia e poi si scavalca si va all'Adriatico l'altro passaggio è la valle dell'Arno l'incrocio è a Firenze la geografia detta un po' il modo di essere ebbene questa comunità che è nata nell'incrocio di transumanza dove qui passavano il bestiame per andare in Maremma di conseguenza industria di concia di concia del pellame industria delle scarpe tutta una parte di Montalcino che è totalmente vuota ancora nel centro dove c'era tutte le vasche da concia delle pelli e se ancora ce n'è perché si conciavano queste pelli questi animali che passavano e a volte morivano e tutta un'industria non esiste più avevamo con tutte le crete l'industria delle ceramiche il mattone forato è un'invenzione dei crocchi nel 1830 è un brevetto montacinese prima il mattone era compatto è stato inventato qua il mattone forato in questa piccola comunità curiosa è stata la prima a avere la corrente elettrica in Toscana un mese prima di Firenze la terza a avere un cinema è lo spirito è il modo di essere curiosamente lo sapete come si chiamava l'industriale che faceva che fece qui i primi mattoni forati si chiamava Feitiker cognome non particolarmente toscano direi però era toscano ed era montacinese assorbito assorbito da questo contesto da questa realtà per cui direi che se esiste una lezione che la Toscana e che Montalcino può dare in campo di radici è che le radici vanno evolute con il tempo questo era un borgo di borghesi di borghesi che commerciavano che producevano la storia non gliel'ha permesso più all'improvviso questo borgo che era su una strada importante per cui aveva un passaggio continuo di gente che consumava è diventato isolato diventato il posto in mezzo al nulla che è oggi e allora che ha fatto? si è reinventato andando per il mondo a vendere tuttora vedete i 270 imbottigliatori di vino di Brunello di Montalcino di cui buona parte sono ragazzi perché questa è una comunità che lascia moltissime possibilità ai giovani che usano normalmente tutti prendere e andare a vendere il loro vino in giro nessun altro lo fa un pochino hanno cominciato in tante altre parti ma un pochino noi lo facciamo tutti è normale è un modo di essere ci siamo reinventati e questo avrà a fare normale questo avrà a fare una tradizione certo che lo è ma è una tradizione nuova è un'evoluzione di un modo di essere che ha finito per fare la storia questo è l'insegnamento che dà questo territorio riguardo le radici le radici sono importanti ma le radici devono essere vive devono essere vive e continuare a vivere continuare a produrre continuare a creare Montalcino è questo è un territorio di grande storia e di grandi radici ma di radici che non sono mai morte vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti